илnovetti e lupetti di youtube ok si,si perchè faccio sto video à monico non me ne fregui,si perché? io era un nuovo cavallo non me ne fregui adattate sta fermo andrea si io non credo mescolare quindi iscrivetevi al suo canale youtube si chiama andaroni staccato 2 e quindi andrea andaroni saluta youtube cosa cosa un baroni saluta youtube al mio 3 1 2 si ma infatti sta con le cuffie 1 2 3 oh andiamo insieme voi andate io prendo lo scarriard o come prego? vabbè con lo scarra è molto e il mio amico Sam tra l'altro noi ci conosciamo perchè ci siamo vicini si e perchè l'ho petto perchè questo video è tutto lasciate un mi piace se potete supportare il mio amico barra youtuber e quindi ciao ciao ciao